Bye bye provincia di Lucca. Da mesi se ne parla e la svolta adesso, anche se vi sono due fronti contrapposti, potrebbe essere vicina. Il Viminale sta infatti mettendo a punto il DDL che attua la stretta contenuta nel decreto Salva Italia, cancellando le giunte e trasformando i consigli in organi di 8-10 membri, eletti tra i sindaci o consiglieri comunali del comprensorio. E martedì il disegno di legge che prevede risparmi per la finanza pubblica di oltre 65 milioni di euro potrebbe essere visionato dal Consiglio dei Ministri, prima di una sua approvazione definitiva in programma tra massimo due settimane. L'iter del DDL però non si preannuncia semplice perché, come accennato, sulla questione ancora non c'è una maggioranza politica. E ad approfittare di questo clima di incertezza è l'unione delle province. Lupi infatti non si è limitata a schierarsi contro la riforma Monti ma ha presentato la sua controproposta. Riduzione del numero delle province da 107 a 60, istituzione da subito di 10 città metropolitane, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria e cancellazione di enti, agenzie, consorsi, apparati statali e regionali e la ridefinizione delle loro funzioni, evitando sovrapposizioni per un risparmio stimato in 5 miliardi di euro. Numero questo con cui l'Unione delle province, che si prepara ad impugnare la norma dinanzi alla Corte Costituzionale, cercherà di fare leva sui partiti per ottenere consensi e porre un freno alla legge elimina giunte. In ogni caso, entro il marzo 2013, una legge dovrà definire i destini delle altre 99 province. Le 7 che andranno a primavera al voto saranno commissariate, per le quali comunque la norma vigente non prevede nuove elezioni.